L'inchiesta è partita due anni fa sotto la lente della procura di Santa Maria Capoavetere le gare per l'affidamento di lavori pubblici nel comune di Caserta. Strade, illuminazione e non solo. Alcuni affidamenti, questa l'ipotesi investigativa, sarebbero stati pilotati attraverso gli uffici comunali e con la connivenza di un esponente del governo cittadino, l'assessore ai lavori pubblici e alla polizia municipale Massimiliano Marzo. Gli inquirenti hanno passato al setaccio documenti, atti pubblici, acquisito informazioni anche attraverso intercettazioni telefoniche, fino al blitz con numerose perquisizioni scattato questa mattina quando i carabinieri del nucleo investigativo di Caserta hanno arrestato 5 persone, tutte ai domiciliari. Tra queste c'è appunto l'assessore dell'attuale giunta comunale Massimiliano Marzo e poi i dirigenti Franco Biondi e Giovanni Natale, il dipendente comunale Porfidi e l'imprenditore Gioacchino Rivetti. Le ipotesi di reato per i destinatari dei provvedimenti restrittivi sono truffa, falso e corruzione.